Ma affrontiamo questo derby, sappiamo che è una partita importantissima, cerchiamo di fare un altro regalo ai nostri tifosi, ma non dobbiamo dimenticare il nostro cammino che è un cammino fatto di grandi sacrifici, di grande umiltà e non dobbiamo mai perdere queste prerogative. Noi siamo consapevoli che andiamo a affrontare una grandissima squadra ben costruita dal direttore Alaneri, che ha costruito per l'ennesima volta una squadra molto importante. Noi andiamo lì a giocarci la nostra partita, come ha detto lei prima, con l'entusiasmo, perché questo è il secondo anno che sto qua, cerco di infondere sempre alla mia squadra l'entusiasmo, la voglia di divertirsi e speriamo di divertirci sabato. Per il proseguo del campionato, quanto sarà dura giocare fuori casa? Ma a me dispiace tantissimo per la gente di Avigento, per i tifosi, perché noi abbiamo bisogno di loro. In queste ultime settimane non si è fatto altro che parlare di stadio, di illuminazioni. Mi dispiace che è passato sotto ordine le nostre prestazioni, perché questi ragazzi vanno soltanto applauditi e incitati. In questo momento qua l'obiettivo principale sia della stamba che del tifo è il campo di Siracusa, questo mi dispiace, però io come ragazzi cercheremo sempre di lottare con la speranza che magari la nostra dirigenza possa risolvere questo problema.